Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Unica marchio che sto fuori è... Lui, l'ho detto, lui sta fuori e sta dentro per se sta questo passaggio. aspetta troppo perché te sei nato molto leggermente secondo per lo meglio meglio marco stato davanti passato meglio marco sono stato